bella a tutti quanti ragazzi e ben ritornati in un'altra challenge in mia compagnia c'è il carissimo frank e oggi come vedete stiamo bella bella frank e oggi facciamo una challenge su fifa attenzione questa è una challenge molto molto divertente dato che frank mi batte sempre su fifa se dovesse farmi un gol il video finisce quindi ragazzi spero che questa challenge non non la perda è perché veramente le perdo tutte le partite è proprio una questione mia di frank che io litigo sempre con lui comunque comunque adesso come video cambiato nettamente la mia squadra sono passato da una serie a a una spagnola con l'englet griezmann semedo d'embele gesù no what attenzione già per farmi gol con rush ford attenzione attenzione mamma mia il grandissimo test e che nel grandissimo test e che fare il tiro evita il gol evita che la challenge finisca subito e mamma mia attenzione massima concentrazione ragazzi perché la partita la partita tu hai sterling si ma sono comprato però sterling a poco a poco tiro eh sì 79 vabbè però è velocissimo dai forte molto forte tipo 93 attenzione mamma mia sterling prova andare avanti ma tanto io c'ho men di che un terzino sinistro 90 di velocità no non ho fatto apposta insomma ricominciamo ragazzi attenzione mamma mia la palla che vola ma sai che c'è anche martial c'è anche martial io non mezza ibrida attenzione ma tu i di di cattiveria d'embele d'embele per griezmann uomo grezzo la butta fuori però attenzione ci stiamo facendo vedere un tiro per me un tiro per lui intanto lui noi era in porta con una squadra inglese va bene avevo comprato l'ederson ma me l'hanno fatto vendere che non gli piaceva a nessuna prendevi prendevi allison è fuori gioco fuori gioco fuori gioco costa da 60 mila di più un attenzione errore errore attenzione attenzione tiro mannaggia la miseria ma tu di prova prova col tiro ha fatto pure un passaggio di rabona però l'azione è andata male perché ma tu dico il tiro no vabbè c'è nel senso noi era in porta non c'entra nulla non ha proprio presa attenzione martinez e vabbè ci va di perpotenza hernandez ma tu c'è il nandes quale quello il fratello c'è il difensore quello che stai baiar monaco attenzione sterling di cattiveria però scivolata spacca le gambe del no dell'attaccante sterling si attaccante destro dell'ala destra attenzione andiamo avanti fallo fallo per per mattia per l'angolo del game scusatevi attenzione la passa in mezzo va lo stesso il passaggio anche con intercettazione non si dice così si intercettazione ah gli dice griezmann tiro parato anzi difeso murato da parte dei difensioni di frank nome vabbè come si com'è chi chiama raga è un nome trammente lungo manco lui attenzione se meto difende porca miseria porca miseria no no se meto è una difensore più veloce di tutto il gioco io ora come faccio attenzione calcio calcio di punizione scusatemi alexander annod la prova la mette in mezzo però non ci riesce anzi un calcio di punizione proprio senza senso proprio per dire meglio di merda fai meglio di esprimi mille cose subito comunque tu hai molto di prepotenza tu giochi molto pesantemente attenzione attenzione